salve a tutti e bentornati sul mio canale continuiamo con il pilates oggi facciamo pilates con la softball vi ricordo che se non avete quella specifica per il pilates potete usare una qualsiasi palla di media dimensione non tanto gonfia quindi non tanto dura oppure in alcuni esercizi potete mettere sotto il sedere per esempio fare la lezione in corpo libero a corpo libero e magari su alcuni esercizi dove noi usiamo la palla così sotto il sedere potete mettere un asciugamano o un cuscino che vi rialza un po da terra ok fate per il resto fare sempre attenzione alle solite cose le posture il collo la schiena eccetera no modificate l'esercizio laddove io riesco vi do la modifica la semplificazione durante gli esercizi pronto piedi paralleli larghezza delle anche porta la palla davanti e solleva le braccia davanti al petto 1 e giù dritta verso il soffitto 2 e stringo scendo 3 e giù 4 e giù quando scendi trascina un po dalle ascelle non lasciar cadere le braccia così di peso è non andare verso la gravità ma ti fermi e riscendi trascinando i piatti sotto le braccia gli ultimi quattro e giù 3 e giù 2 e giù e uno resta davanti al petto ora mai così porti le spalle indietro con le braccia tese e rispingi le spalle avanti quindi retrazione e protezione delle spalle ok nello stesso tempo in cui fai questo movimento fai sali sulle punte quindi 1 e porto le spalle avanti scendo prendo aria 2 e giù 3 senza alzare le spalle e la 4 e ritorno avanti 5 e la 6 e spingo 7 e ancora 8 e giù 9 e giù l'ultimo 10 torno avanti e sciolgo benissimo vado a piegare le gambe quindi vado a portare la palla al petto e vado a fare lo squat e quindi quando scendete piegate le gambe portate al massimo spalla ginocchio e punta del piede sulla stessa linea di certo non superate la punta del piede con le ginocchia quindi andrò a fare così spingo le braccia avanti e piego le gambe butto fuori salgo stringendo la parte profonda dei glutei e quindi 2 e torno cresco e 3 le mani a paletta e 4 e butto fuori salgo cresco 5 e su cresco 6 e su 7 e su 8 e risalgo 9 e risalgo 10 l'ultimo butto fuori salgo e sciolgo benissimo divarica le gambe porto con le punte un po aperte in fuori porto la palla davanti al petto e salgo con le braccia in alto senza alzare le spalle spalle basse prendo l'aria qui e butto fuori trascinando sempre delle scende e 2 e la prendo aria 3 e giù 4 e giù 5 e riscendo 6 e riscendo 7 e riscendo 8 senza alzare le spalle tieni forte con gli addominali 9 e riscendo l'ultimo 10 il resto su ora fai questo sollevi le spalle verso le orecchie e abbassi le spalle lontano le orecchie nello stesso tempo salgo sulle punte 1 e giù 2 e giù 2 e giù 3 e giù 4 e giù 5 e giù 6 e riscendo 7 e giù 8 e riscendo 7 e giù 8 e riscendo e tiro 9 e giù 9 e giù 10 e giù e sciolgo bene resta con le gambe divaricate e con le punte un po aperte in fuori porta la palla al petto con la mano a paletta quindi le dita non poggiate ma solo il palmo della mano piego e distendo le braccia avanti e tiro su buttando fuori l'aria quindi 2 distendo le gambe buttando fuori l'aria riportando la palla al petto e 3 non alzare le spalle 4 le punte leggermente aperte in fuori 5 e butto fuori salgo 6 e butto fuori salgo 7 e trascino 8 trascino salgo 9 butto fuori salgo l'ultimo 10 risalgo e sciolgo sciogli un po anche le gambe ok divarica di nuovo le gambe con le punte aperte in fuori ok porta la palla a sinistra nella mano sinistra e fai questo pieghi pieghi la gamba destra scendi col braccio sinistro sotto non piegare il braccio inclina un po il busto girati anche col busto riapri quando sei con tutte e due le braccia in alto riporti le braccia in fuori e 2 e riapro butto fuori 3 e la 4 e la 5 e risalgo 6 e riapro le braccia 7 e riapro le braccia 8 e apro 9 e riapro l'ultimo 10 riapro e mi sposto col peso a destra alzo la gamba alzo la gamba e chiudo le braccia in alto 1 e riapro 2 e la 3 e la 4 e la butto fuori 5 e prendo a riapro 6 e ancora 7 e la 8 riapro cresco 9 e riapro cresco 10 resta con la gamba in fuori le braccia avanti piccolo con la gamba 1 2 3 butto fuori 4 5 6 7 8 9 e 10 torno giù e sciolgo divarica le gambe sempre con le punte aperte in fuori non troppo aperte ok se no magari non riesci a fare il movimento porta le braccia in fuori la palla a destra quindi piego la gamba sinistra inclino il busto e lo giro passo per sotto per basso col braccio raggiungo l'altro braccio salgo con tutte e due le braccia e e riapro in fuori quindi butto fuori 1 e riapro le braccia 2 e riapro 3 e riapro butto fuori 4 e apro le braccia 5 e la 6 e la 7 7 apro 8 apro 9 apro l'ultimo 10 riapro mi sposto col peso a sinistra uguale a prima 1 e riapro cresco butto fuori 2 in equilibrio sulla gamba sinistra 3 e mi fermo un istante e riapro 4 giro le mani in alto quando riapro 5 e la 6 e riapro 7 e riapro 8 e ancora 9 riapro 10 resta su con la gamba e con le braccia avanti piccolo con la gamba in alto 1 2 3 butto fuori 4 5 6 7 invisibile 8 9 e 10 scende appoggio ok e andiamo a terra seduti gambe distese ok metto la palla dietro per mettere la palla appoggiata dietro inclinate un po in avanti col busto accostate dalla base della schiena e poi appoggiate sopra vedere che non sono molto inclinato indietro non devi stare proprio sdraiato ok l'importante perché la palla non deve essere tanto gonfia ma neanche sgonfissima e comunque non troppo sdraiato attenzione su questi esercizi non andare troppo dietro perché sennò faccio l'effetto contrario quindi vado a inarcare la schiena e mi fa male la parte bassa della schiena ok quindi crocio le braccia in questo modo senza afferrare le spalle davanti alle spalle curvo la schiena e faccio un momento proprio invisibile piccolissimo l'importante è che non ti stacchi mai dalla palla così da avere sempre l'addome in tensione se tocchi la pancia in una posizione appoggio sulla palla sentirai addome in tensione quindi fare questo momento qua 1 e qua vedi piccolo 2 punto fuori 3 la testa un po avanti e 4 punto fuori 5 e la 6 e la 7 vai 8 9 10 sto sempre su un stesso range di movimento è 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 torna avanti e sciogli togli un po la palla ok ora chi non riesce a fare chi non ha la palla quindi non può fare l'esercizio il prossimo esercizio una cosa ancora scusate quello che ho fatto adesso con la palla dietro se non la palla chiaramente lo faccio come lo faccio di solito schiena curva e vado piccolo indietro facendo questo movimento così senza eccedere nel andare indietro il prossimo esercizio se non hai la palla fai questo fletti in avanti e torna su sdrogolando riportando la palla al tetto ok noi invece ci sediamo solo la palla proprio fattivamente seduti ok mettetevi in una posizione di equilibrio potete poggiare i taloni a terra oppure quando fate l'esercizio poi lo vedrete potete tenere anche le gambe sospese ok quindi andrò a fare così sposto indietro e torno avanti ok tenendovi con le mani vi potete tenere o con tutta la mano o col polpastrello basta che non mi insaccate nelle spalle ma cercare di stare fuori ok quindi uno e torno avanti due aspetta che io non scivolo tanto bene eh ok aspetta che mi metto bene sul tappeto ecco qua ok allora faccio così uno mi infilo col sedere dietro e le spalle vengono un po' avanti e poi riporto avanti butto fuori due e la tre e la quattro e la cinque e vai tieni con l'addome butto fuori sei e torno avanti sette e ancora otto torno avanti nove ancora l'ultimo dieci torno avanti e sciolgo bene torno a sederti avanti a terra rimetti la palla dietro la schiena gambe tese incrocia di nuovo le braccia ok se non hai la palla fai come ho detto senza palla lo stesso tipo di movimento piccolo quindi farò vado sempre indietro ma stavolta mi giro sempre da una parte uno e torno al centro due piccolo e butto fuori tre butto fuori quattro butto fuori cinque sei sette otto nove butto fuori dieci e la uno due tre quattro cinque 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 sette otto nove l'ultimo dieci torno e sciolgo ok divarica le gambe con le punte rivolte verso l'alto piede perpendicolare se riesco anche a martello bene palla avanti le mani di taglio sulla palla non proprio sulla punta delle dita ma sotto la mano schiena dritta più che puoi quindi braccia tese non le piegare nel distendere e scusa non le piegare mai tieni sempre distese vado a fare questo vado il braccio destro lateralmente in fuori rotolo col braccio sinistro verso il piede destro guardando il piede e torno su dritto verso il soffitto e butto fuori due e prendo aria cresco tre e non piegare le braccia quattro e su cinque i glutei a terra e su sei e salgo cresco sette e salgo cresco otto e ancora forza nove e ancora forza l'ultimo dieci torno su e sciolgo chiudo le gambe ok distendo di nuovo le gambe avanti e metto la palla sempre dietro ok quindi sempre le mani alle spalle curva la schiena piccolo indietro piede a martello uno sempre in tensione sul laddove due non ti staccare mai dalla palla tre e là quattro movimento piccolo cinque sempre in appoggio sulla palla sei e giù sette e giù otto e ancora nove e giù due dieci ancora uno alzalo poco poco il piede due di quattro dita tre e là quattro cinque sei sette otto nove e l'ultimo dieci sciolgo ok di pari che le gambe facciamo l'ultimo da seduto ok quindi qua porta la palla a sinistra ok quindi faccio braccio destro davanti all'addome fletto il busto lateralmente sfiro il braccio da sotto cambio dall'altro lato salgo e ritorno con la palla dall'altra parte quindi uno spalla verso il giro stesso ginocchio guardi sotto il braccio sfiro il braccio libero e torno fronte piede cambio risalgo apro con la palla sinistra bene quindi due sfiro cambio salgo palla a destra tre sfiro cambio salgo palla a sinistra quattro sfiro cambio salgo palla a destra cinque sfiro cambio giro palla a sinistra sei sfiro cambio salgo facendo tutta la circonduzione la palla a destra sette ancora cambio risalgo e apro otto sfiro cambio risalgo e la nove sfiro cambio risalgo e qui l'ultimo dieci sfiro cambio risalgo risalgo e giù bene bene andiamo a terra sdraiati supini riporto avanti tengo la palla in mezzo alle cosce per non perderla curvo la schiena fletto il capo avanti e scendo lentamente a terra appoggiando la vertebra dopo l'altra sistema di bene con la schiena ok metti le mani nella testa senza intrecciare le dita nel sovrapporre le mani sollevo testa e spalle stringo la palla progressivamente gomiti aperti scendo e rilascio progressivamente la palla e due e torno scendo piano tre e e rilascio scendo butto fuori quattro e la cinque e rilascio scendo sei e la sette e otto e la nove e scendo dieci resta qui piccolo uno due la pulsazione con la palla tre quattro cinque con le spalle i piedi avanti sei sette otto nove e dieci sciolgo ok ok quindi sollevo prima la gamba poi l'altra i piedi a martello sollevo testa e spalle porto le braccia lungo i fianchi braccia tese oscillo 100 prendo 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 30 2 3 4 5 2 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 20 20 20 20 21 Nove, l'ultimo, dieci, piego le gambe, scendo, tolgo la palla, appoggio prima il piede e poi l'altro, distendi un po' le gambe tra un esercizio e l'altro. Piega le gambe, tira su prima una gamba e poi l'altra, rimetti in mezzo alle camiglie, quindi sollevi testa e spalle, distendi le gambe, oscilla, prendo aria, due, tre, quattro, cinque, butto fuori, due, tre, quattro, dieci, in due, tre, quattro, cinque, ex, due, tre, quattro, venti, in due, tre, quattro, cinque, ex, due, tre, quattro, trenta, in due, tre, quattro, cinque, ex, due, tre, quattro, quaranta, in due, tre, quattro, cinque, ex, due, tre, quattro, cinquanta, in due, tre, quattro, cinque, ex, due, tre, quattro, sessanta, in due, tre, quattro, cinque, ex, due, tre, quattro, settanta, in due, tre, quattro, cinque, ex, due, tre, quattro, ottanta, in due, tre, quattro, cinque, due, tre, quattro, cinque, due, tre, quattro, sessanta, in due, tre, quattro, cinque, due, tre, quattro, sessanta, in due, tre, quattro, cinque, due, tre, quattro, sessanta, in due, tre, quattro, cinque, due ottimo adesso fai attenzione se non riesci lo fai con i piedi a terra se non hai la palla sicuramente lo fai con i piedi a terra la ricchezza delle anche noi invece facciamo così che abbiamo la palla mettiamo i piedi sopra la palla allora cerca di mettere i piedi vicini perché la palla ha uno spazio limitato avvicina i talloni ai glutei metti le braccia lungo i fianchi e non mettere niente sotto la testa bene? quindi piano piano solleverai la coda 1 stai su prendi l'aria e buttando fuori l'aria riscendi in bridging srotolando la vertebra alla volta fai attenzione se la palla è troppo gonfia ok? bene quindi prima la coda 2 e scendo piano piano la vertebra alla volta se senti i crampi dietro le cosce vuol dire che i piedi sono troppo lontani quindi avvicina un po' la palla 3 prendo aria e buttando fuori l'aria torna giù dalle scapole una vertebra alla volta fino a ripoggiare la colla e 4 e giù 5 e giù 6 e giù 7 e giù e giù 8 e giù 9 e giù e giù l'ultimo 10 10 resta su e stringe un blu sull'altro 1 senza oscillare il bacino 2 3 4 butto fuori 5 6 7 8 9 e 10 riscendo ok? chiaramente alzando i piedi sulla palla si riduce la capacità di arrotolamento di arrotolamento e srotolamento tu sempre cerca di farlo nei limiti del possibile ok ci giriamo di fianco e mettiamo la palla sotto tutte e due le gambe guarda non mettere proprio la palla sotto le caviglie così se no ti fa troppa leva sul ginocchio mettila un po' più verso la gamba così ok? e poi ci metti anche l'altra gamba sopra ok aspetta che sto un po' più giù se no per il resto rimani tutta quanta sdraiata a terra ok noterai che le gambe oscillano molto avanti e indietro tieniti con la mano avanti in questo modo e cerca di non oscillare avanti e indietro con le gambe i piedi a martello gambe lunghe in linea con tutto il busto solleva la gamba 1 e giù 2 senza girare la punta del piede 3 e butto fuori scendo prendo aria 4 e giù 5 e giù 6 e scendo 7 e scendo 8 e ancora 9 e scendo l'ultimo 10 scendo senza appoggiare e do il calcio avanti 1 e là 2 non esagerare e andare avanti se non l'altra gamba si muove 3 e là 4 e torna 5 6 6 7 8 9 9 l'ultimo 10 torna in linea piccolo in alto 1 2 invisibile 3 4 5 6 7 8 9 e stop benissimo piega un po' la gamba in avanti così ok avrai notato come l'instabilità è tanto instabile il nostro corpo quindi mi costringe a lavorare con la parte profonda addome parte profonda dei glutei quindi pavimento pelvico e tutta la parte profonda della schiena ok da qui guarda apri la punta del piede quindi non stare più col piede parallelo e fai questo lavoro scivoli all'interno della coscia col tallone a un certo punto non potrai più piegare la gamba distendi verso il soffitto e riscendi col piede a martello bene quindi vai a grattare all'interno della coscia e 2 distendo e scendo lavoro col piede 3 punta in estensione e scendo col tallone col piede a martello butto fuori 4 e prendo aria finisco il movimento 5 e giù 6 distendo e scendo 7 distendo e scendo 8 e giù 9 e scendo l'ultimo 10 riscendo e stop così benissimo torniamo la palla da sotto la mettiamo ci sediamo un attimo con la gamba sotto piegata poggia la palla proprio al fianco e ti appoggi a terra in questo modo una gamba piegata e l'altra distesa quindi la mano destra dietro la testa e il braccio sinistro sul prolungamento delle spalle prendo aria preparo e buttando fuori l'aria 1 e scendo anche se non poggio il dobbio butto fuori 2 e giù 3 e giù 4 e scendo 5 e giù 6 e scendo 7 e là butto fuori 8 e giù 9 e giù l'ultimo 10 riappoggia e sciogli ricordati che se questo non riesci vuol dire che la palla o è troppo sgonfia oppure si trova in una posizione sbagliata sta troppo vicino alla spalla allora muoviti un po' in alto in basso rotolando la palla fino a che trovi la posizione giusta va bene? allora ci giriamo pancia sotto non le allora faccio così prendo la palla la metto dietro il ginocchio e poi stringo ok? fate attenzione se non hai la palla lo fai con la gamba piegata e qua metti le mani sotto la fronte le gambe appena appena aperte la larghezza delle ante piano attenzione che ti sfugge tieni il piede a martello riesci a tenere meglio la palla il movimento è molto piccolo devi solo staccare la coscia da terra quindi fare uno e giù due e respira come ritieni meglio che ti aiuta di più nel movimento tre e giù quattro e giù cinque e scendo sei e scendo sette e scendo otto e scendo nove e scendo resta su piccolo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci poggio ok tieni la palla faccio così alzo la gamba e stavolta faccio così mi giro vado a toccare con la punta del piede dall'altra parte e torno avanti tieni il braccio guarda il braccio sinistro in alto e il braccio destro piegato perché gli aiuta a spingere un po' quindi faccio questo uno e torno faccio una rotazione e due e ritorno tieni questo braccio in fuori tre e e ritorno piano controllando quattro respira come vuoi e torno cinque e ritorno sei e ritorno sette e e ancora forza otto butto fuori torno nove e ancora giù l'ultimo dieci ritorno tolgo la palla e appoggio ok mentre ti riposi metterai la palla dall'altro lato distendi per la gamba la poggi dietro il ginocchio e poi stringi ok metti le mani sotto la fronte e sollevi la goscia uno senza sollevare il bacino due e respira come vuoi tre e giù quattro e giù cinque e scendo sei e giù sette e giù otto nove resta su piccolo uno due butto fuori tre quattro invisibile cinque sei sette otto nove e dieci poggio ok tieni la palla e porti il braccio destro in alto e il braccio sinistro in fuori bene ti dai la spinta con la mano inizialmente e fai questa cosa qui uno tocchi con la punta del piede e apri il braccio e torni due e torno tre e torno quattro e giù cinque e ritorno sei e scendo piano sette e giù controllo otto e giù controllo nove e giù scendo piano dieci torno giù e tolgo la palla punta le ginocchia ti siedi sui talloni se non arrivi ai talloni metti la palla dietro così allunga un po' la schiena torni su e ti metti sull'altro fianco quindi metterai la palla non propa la caviglia ok bene e poi tutte e due le gambe sopra sistemati in modo da stare più o meno in equilibrio all'inizio la palla si muove di più poi piano piano il tuo corpo dominerà il movimento bene quindi andrò a lanciare uno e giù due e scendo prendo aria tre e giù quattro giù cinque sei sette otto nove l'ultimo dieci non poggiarla e spostal'avanti uno e ritorno in linea due e ritorno tre e là quattro e torno indietro cinque e là sei e torno sette e ritorno otto e ancora forza nove continua l'ultimo dieci ritorno in linea piccolo in alto uno due a galleggiare tre invisibile quattro butto fuori cinque sei sette otto nove e dieci poggio ok resta sempre con la gamba sopra ti riposi solamente vedi l'ho appoggiato il cinocchio poi ridistendo rotolando e sto di nuovo nella posizione apro la punta del piede in alto e vado a scivolare all'interno della coscia quando non piego più distendo in alto con la punta in estensione scendo col piede a martello a sfiorare il tallone qua butto fuori prendo aria e scendo e due su e là tre su e riscendo quattro distendo e giù cinque distendo e giù sei opp e giù sette opp e giù otto su e giù nove su e giù l'ultimo dieci su e poggio ok togli la palla sali in posizione seduta pieghi la gamba che sta sotto poggi la palla dal fianco ti ci appoggi sopra col comito a terra una gamba distesa e l'altra piegata ok metti la mano dietro la testa l'altro braccio sul prolungamento della spalla prendo aria preparo e buttando fuori l'aria sollevo uno e giù butto fuori due e scendo tre e scendo quattro e giù cinque e giù sei e giù sette e scendo otto e giù nove e giù l'ultimo dieci torno giù e sciolgo torniamo schiena a terra ora fate attenzione questo è il gruppo di esercizi che vi dicevo prima dove dovete mettere la palla sotto il sedere quindi noi che abbiamo la palla alziamo il sedere mettiamo la palla sotto non sul tratto lombare un po' più giù bene e poi solleviamo prima la gamba e poi l'altra se non hai praticamente la palla cerca un cuscino che ti dia un po' questa altezza diciamo no in modo da scaricare la schiena la parte bassa della schiena e fare gli esercizi senza avere il carico sulla schiena appunto bene distendo le gambe verso il soffitto e per adesso tengo le gambe perpendicolari al pavimento ok? fai attenzione ti viene spontaneo portare le gambe qua non ce le portare porta le perpendicolari al pavimento ok? spingi per adesso con i talloni verso il soffitto e con la coda sul pallone e resta in questa posizione per qualche secondo cerca di non oscillare a destra e a sinistra ok? fai molta attenzione allora adesso una gamba per volta scendo con una gamba uno e torno su cambio con l'altra due col piede a martello e butto fuori torno tre non scendere con la seconda gamba finché la prima non è tornata quattro e torno cinque e butto fuori saldo sei e butto fuori saldo sette butto fuori saldo otto butto fuori saldo nove tre e dieci resta giù con la gamba ora fai molta attenzione una gamba va e una piede qui devi mantenere l'allineamento quindi sempre a stessa distanza tra la gamba e l'altra e uno butto fuori due butto fuori tre quattro poi vieni a martello cinque sei sette otto nove dieci e uno due tre quattro cinque butto fuori sei sette otto nove e dieci torno e piega se senti che la palla fuoriesce dal sedere allora la sistemi un po' più su tra un esercizio e l'altro ok bene teoricamente non dovresti fare come ho fatto io adesso a saltellare sulla palla poggi i piedi a terra alzi il sedere e la sistemi ok distendi nuovo le gambe verso il soffitto ora mi raccomando molta attenzione respira come ti fa più comodo sposta le gambe avanti uno e butto fuori saldo due e butto fuori saldo tre non devo sentire la schiera assolutamente quattro e ritorno cinque e là sei e butto fuori ritorno sette e ancora otto butto fuori torno nove e là l'ultimo dieci ritorno e piego ok distendi nuovo le gambe ora avri un po' di più le braccia rispetto al corpo avri le gambe scendi leggermente le chiudi e torni davanti alle anche prendi aria solo quando apri butti fuori scendi continui a buttare fuori chiudi continui a buttare fuori torno e tre giro chiudo e torno devo fare così come il ritmo quattro mi fermo e poi faccio tutto di un fiato giro chiudo e torno cinque giro chiudo e torno sei giro chiudo e torno sette giro chiudo e torno otto giro chiudo e torno nove ancora dieci giro chiudo e torno e piego un po' le gambe ok sempre molta cautela in questi esercizi perché ho molta leva nella schiena quindi devo controllare bene con gli addominali mi raccomando ora distendo di nuovo le gambe stavolta faccio così scendo con le gambe unite apro le gambe le riporto verso le anche e le richiudo bene prendo aria butto fuori giro chiudo e torno e due e giro chiudo e torno tre butto fuori quattro e giro chiudo e torno cinque e là sei e chiudo sette e chiudo scusate otto e là nove l'ultimo dieci e piega ok ottima allora distendo una gamba e l'altra la tengo piegata e tengo le punte in estensione quindi andrò a fare una specie di bicicletta e uno abbasso la punta come se volessi scavare a terra due tre le gambe allineate quattro cinque sei butto fuori sette otto nove dieci uno due tre quattro cinque sei sette otto nove cambio il giro e uno scavo la sabbia due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci piego poggio i piedi a terra alzo il sedere e tolgo la pallina ok distendi le gambe e rilassa un po' tutti i muscoli del corpo porta il braccio destro in alto il braccio sinistro lungo il fianco senza poggiarli a terra allungati nelle due direzioni opposte con le braccia solleva il ginocchio destro porta avanti il braccio destro e con tutte e due le mani afferri il ginocchio e tigli al petto abbandona i piedi l'esercizio lascia e poggia la caviglia sulla coscia tira sul ginocchio sinistro tira sul ginocchio sinistro tira il petto con le mani abbandona il tallone verso il gluteo spalle aperte lascia e poggio a cavallo completamente braccio avanti verso il soffitto lentamente e contemporaneamente ginocchio a destra braccio a sinistra piano con le ginocchio con la mano sinistra afferra il polso destro e tira lateralmente a sinistra lascia il polso torno al centro distendi la gamba destra a terra distendi la gamba sinistra abbandona i piedi lascia cadere il braccio sinistro in alto il braccio destro lungo il fianco allungati con le braccia nelle due direzioni opposte senza poggiarle a terra tira sul ginocchio sinistro porta avanti il braccio sinistro con tutte e due le mani afferri il ginocchio e tiri al petto lascia il ginocchio poggia la caviglia sulla coscia col ginocchio aperto in fuori e abbandona tutti i muscoli del corpo tira sul ginocchio destro con la caviglia cavallata afferra sotto il ginocchio e tira il petto abbandonando il tallone verso il gluteo mantieni la tensione costante lascia poggia il piede a cavalla la gana ma braccia avanti ginocchia a sinistra e braccia a destra con la mano destra afferra il polso sinistro e tira lateralmente a destra lascia il polso torno al centro tiro su primo un ginocchio e poi l'altro tiro al petto tutte e due divarica le ginocchia come le spalle piedi abbandonati e decontrati solleva testa e spalle metti piede contro piede afferra le punte e tiri piedi verso l'addome e le spalle le spingi verso i piedi testa avanti lascio le punte chiudo le gambe afferro il tiro le ginocchia tiro con le braccia distendo le gambe e salgo in posizione seduta poi salgo in accosciata i piedi paralleli mi sbilancio indietro con i talloni buttando fuori l'aria distendi le gambe e abbandona braccia testa e spalle verso il pavimento sbilanciando di in avanti senza staccare i talloni abbandona il collo piega le gambe afferra i polpacci e tira spingendo un po' la testa verso le ginocchia lascio la presa salgo la schiena curva testa per ultima respiro vado fino su senza alzare le spalle fletto il capo a destra ci voglio la mano destra sopra e abbassa il braccio e abbandona il braccio sinistro fin quando sento la tensione desiderata tieni con gli addominali sposta la testa in avanti torna su prendi l'aria fletti a sinistra e abbassa il braccio destro fin quando senti la tensione giusta per te sposta la testa avanti e tieni con gli addominali togli il braccio sollevi il capo scendi respiri e stop così bene ok anche per oggi è tutto spero che la lezione vi sia piaciuta mi raccomando modificate gli esercizi state attenti sempre alle posizioni tanto ormai sapete quello che va bene per voi eventualmente ripeto potete andare sempre indietro e fare una lezione di quelle di quelle passate che sono sempre a vostra disposizione arrivederci alla prossima lezione buon allenamento